Investire soprattutto sul proprio futuro, sul futuro di questi ragazzi, perché credo che anche nei periodi di crisi l'investimento migliore è certamente quella in formazione. Si chiama Arezzo Cicredi, c'è il punto interrogativo, ma il presidente Anselmo Grotti spera che presto venga tolto. È la campagna di crowdfunding lanciata dal liceo scientifico di Arezzo Francesco Redi, il più grande della provincia di Arezzo, per costruire uno spazio polivalente. L'idea è quella nata insieme agli studenti, insieme ai genitori, di realizzare un ambiente polifunzionale che permetta ai nostri studenti di avere una sala convegna adeguata da 500 posti, una palestra regolamentare per tutta una serie di attività sportive e delle aule ulteriori di cui abbiamo bisogno. Naturalmente l'idea è quella di lanciare questa proposta all'intera città, perché il pomeriggio questi ambienti sono utilizzabili anche da associazioni, da altre scuole, da realtà che vogliono avere qui in centro storico un luogo dove poter fare convegni, eventi, che sostanzialmente ad Arezzo manca, perché i luoghi che ci sono sono fuori città. Un progetto fai da te, insomma, elaborato all'interno, scritto da un genitore architetto appoggiato da un comitato di sostegno e che ora lavora sul reperimento delle risorse. L'obiettivo è aprire i nuovi spazi per settembre 2019. Tutte le informazioni sono presenti nel sito www.arezzocicredi.it. Si può trovare già il progetto di massima, le modalità con cui fare il versamento. Tutte le tappe saranno condivise perché l'obiettivo è proprio quello di realizzare un percorso assolutamente trasparente e condiviso. Grazie.